È stata approvata dal Consiglio Comunale di Monticelli la bozza di accordo con l'azienda sanitaria locale per l'utilizzo del campo sportivo del Paese come piazzola di atterraggio dell'elisocorso notturno del 118 in caso di emergenze sanitarie. Stimiamo che la Convenzione si possa concludere a breve, ha spiegato il Sindaco Jimmy Distante. Il Consiglio ha approvato la bozza che ora è passata all'USL per la convalida definitiva. La struttura, ha spiegato il primo cittadino, ha già tutte le caratteristiche di idoneità come recinzione e illuminazione e quindi non sono necessari interventi strutturali. Qualche mese fa è avvenuto sopra il luogo che ha dato esito favorevole. L'elisocorso notturno proveniente da Bologna si è alzato tre volte per interventi nel Piacentino dal 15 agosto dello scorso anno. Gli obiettivi futuri dichiarati dalla Regione sono quelli di potenziare ulteriormente le aree per i voli notturni e garantire interventi sicuri anche in condizioni di scarsissima visibilità. Dalla Valtidone alla Valdarda fino alla Bassa, nella nostra provincia le aree di atterraggio delle eleambulanze previste per il Biennio 2018-2019 sono 17, molto delle quali già operative.